Tutti i genitori sanno che i bambini amano mettere in bocca gli oggetti minuscoli che trovano per casa. Nonostante gli sforzi di mamma e papà, a volte i loro piccoli finiscono per inghiottire quello che raccolgono. Il Boston Children's Hospital ha persino inaugurato un'ala dove vengono collezionate le cose più strane ingoiate dai bambini, dalle zampe di gallina e magneti, fino a una spilla prodotta nel 1940 per supportare la rielezione del presidente Franklin Delano Roosevelt. Quest'abitudine non ci sorprende, dal momento che i bambini imparano a conoscere l'ambiente circostante proprio assaggiando tutto ciò che incontrano, anche se in alcuni casi i genitori preferirebbero avere figli meno curiosi e più attenti. Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprire cos'era rimasto incastrato nel collo di questa bambina. La prima radiografia Facciamo prima un passo indietro e torniamo nel 1897, quando il dottor Charles Mayo, della Mayo Clinic, ricevette la visita di una mamma terrorizzata perché suo figlio aveva ingoiato la fibbia di un gilet. L'oggetto era rimasto incastrato nell'esofago, tuttavia, prima di procedere con l'estrazione, il dottor Mayo doveva sapere di preciso in che punto dell'esofago si trovasse la fibbia e soprattutto se era aperta o chiusa. L'intervento eseguito alla cieca avrebbe potuto avere un esito drammatico per il bambino, ma all'improvviso il dottor Mayo ebbe un lampo di ispirazione. La settimana precedente aveva assistito alla dimostrazione del funzionamento di un nuovo macchinario chiamato tavolo radiologico, che all'epoca non veniva usato per scopi medici perché molte persone credevano che l'abilità di vedere all'interno del corpo potesse sfociare in utilizzi invasivi. Tuttavia, il dottor Mayo, comprese il potenziale medico della nuova tecnologia, acquistò il macchinario e riuscì ad eseguire una radiografia sulla gola del piccolo, mentre il bambino dormiva tranquillamente tra le braccia della mamma. Con le informazioni ottenute ai raggi X, il dottore riuscì a rimuovere la fibbia dalla gola del bambino senza danneggiare l'esofago. Nel processo, Charles Mayo rivoluzionò la medicina, introducendo una tecnologia che avrebbe permesso ai chirurghi di tutto il mondo di operare con una nuova consapevolezza. Caramella gonfiabile. La scoperta del dottor Mayo si è provata fondamentale per le generazioni successive di bambini, ma uno dei casi più eclatanti nella storia della medicina rimane senza dubbio quello della piccola Onraia. Sia la piccola che la bisnonna Freda Diwisi, che al momento dell'incidente si stava prendendo cura della nipotina, credevano che Onraia avesse inghiottito una caramella troppo grande. Purtroppo la bambina aveva mangiato un giocattolo chiamato Waterballs, una biglia realizzata con un polimero superassorbente che cresce fino a 400 volte le sue dimensioni originali quando viene a contatto con l'acqua. Una volta ingoiato da Onraia, il giocattolo aveva iniziato ad assorbire l'umidità presente nel suo organismo ed era cresciuto così tanto da rimanere incastrato nel suo tratto digestivo. Quando i dottori la portarono in sala operatoria e la sottoposero a una radiografia salvavita, scoprirono che il suo tratto intestinale si era espanso dolorosamente in risposta alla crescita anormale del giocattolo. La bambina dovette affrontare un intervento chirurgico d'urgenza dal momento che la Waterballs avrebbe potuto frantumare le pareti del suo intestino, causando una peritonite potenzialmente fatale. Quando la pallina venne rimossa, i medici misurarono una larghezza di 3,5 cm di diametro. Nella sfortuna Onraia era stata fortunata perché le Waterballs possono crescere fino a 5,5 cm di diametro. Per fortuna la causa dell'occlusione venne eliminata e quattro giorni dopo l'operazione Onraia poteva tornare a casa sua. Speriamo che nel frattempo i genitori avessero rimosso qualsiasi tipo di giocattolo dalla circolazione. Paperella gialla Hector Flores, di sette anni, aveva cominciato a comportarsi in modo fastidioso durante le lezioni a scuola. Fino a pochi giorni prima era stato uno studente modello e la sua maestra non riusciva a comprendere come mai avesse iniziato a starnazzare come una papera nei momenti più inopportuni. Quando la donna si lamentò con i genitori di Hector, la mamma del suo alunno confessò che anche lei aveva notato uno strano cambiamento. Il bambino aveva apparentemente imparato a fischiettare da un giorno all'altro e, quando rideva, il suo corpo pronunciava un misterioso suono stridulo. Gli unici a non notare i sintomi furono proprio i dottori. La madre di Hector lo portò al Bronx Lebanon Hospital per chiedere un parere tecnico, ma i medici le risposero che stava soltanto immaginando il rumore e mandarono a casa mamma e figlio con delle pastiglie per il mal di stomaco, convinti che i suoi problemi derivassero da alcuni disturbi della digestione. La famiglia di Hector, però, non era sorda né pazza. Sapevano che il bambino stava producendo dei rumori strani e non si sarebbero arresi finché non ne avessero scoperto la fonte. Suo padre registrò su una cassetta lo squittio prodotto dal figlio e tornò all'ospedale per farlo sentire ai dottori, dai quali pretese una visita più approfondita. Questa volta i medici presero la sua richiesta molto sul serio ed eseguirono un'operazione completa di endoscopia che durò 45 minuti. In uno dei tubi bronchiali che portavano ai polmoni di Hector venne rilevata la presenza di uno squeaker, il dispositivo che permette ai giocattoli di squittire. Per fortuna, i dottori furono capaci di estrarlo perché nel giro di qualche altro mese l'oggetto incastrato avrebbe potuto causare danni molto gravi. Piume in fiore Una paperella di plastica è un oggetto comune, ma l'oggetto inghiottito da questa bambina statunitense è veramente straordinario. I genitori di Mia Whittington, una bambina di sette mesi proveniente da Hutchinson in Kansas, si sono spaventati quando hanno notato una strana protuberanza che cresceva sul collo della piccola. Col tempo, il bozzo aveva raggiunto le dimensioni di una pallina da golf. Dopo aver osservato quello strano fenomeno senza notare miglioramenti, i suoi genitori, Emma e Aaron, l'hanno portata dal pediatra, che l'ha rimandata a casa dopo aver ipotizzato che fosse soltanto una ghiandola ingrossata. Tuttavia, il giorno dopo, la coppia ha notato una specie di punta che fuoriusciva dalla protuberanza e ha portato la figlia direttamente in ospedale. Preoccupati, i medici hanno trasferito la bambina in una struttura più attrezzata, a Wichita. Lì, un dottore ha cercato di drenare l'area con un medicinale topico. Dopo due giorni di osservazione, il medico ha raschiato via la patina che si era formata intorno all'aria e ha realizzato che la piccola punta intravista dai genitori era diventata raggiungibile con le pinzette. Quando ha estratto quella che credeva essere una semplice spina, il dottore è rimasto senza parole nel constatare che si trattava invece di una piuma nera lunga 5 centimetri. La famiglia Hutchinson aveva un cuscino in vera piuma d'oca, ma Mia veniva raramente a contatto con l'oggetto. Probabilmente la bambina era riuscita a recuperarlo e ad estrarre una piuma che poi aveva mangiato intera. La piuma le doveva essere rimasta incastrata nella gola e il suo organismo aveva cercato di espellerla passando attraverso il collo. Ovviamente non è questo il modo generico in cui il nostro organismo cerca di espellere dei corpi estrani. Di solito qualsiasi oggetto inaspettato viene distrutto dai succhi gastrici e spinto lungo il tratto digerente. I dottori che hanno visitato Mia hanno dedotto quindi che la piuma era rimasta in quel punto per più tempo del previsto. Probabilmente si era incastrata nella sua gola, aveva lentamente oltrepassato le pareti dell'esofago e poi, nell'arco di settimane, forse mesi, aveva tentato la fuga attraverso il collo, perforando la pelle. I medici hanno dovuto scavare un piccolo foro per permettere alla piuma di uscire, ma alla fine Mia è stata liberata dal parassite inaspettato. L'intero processo deve essere stato terribilmente doloroso per lei, eppure i suoi genitori hanno affermato di non averla mai sentita piangere né lamentarsi. Mia aveva fatto più capricci del solito nelle ultime settimane, ma avevano addossato la causa alla crescita dei primi dentini. L'infermiera Sandra Mathis, che ha assistito la piccola Mia durante la convalescenza, ha dichiarato che in vent'anni di carriera nel reparto di pediatria dell'ospedale, non aveva mai visto qualcosa di simile, sebbene una volta avesse accudito un bambino finito al pronto soccorso con delle setole incastrate sulle tonsille dopo aver masticato una spazzola per capelli. Una volta estratta la piuma, Mia ha dovuto affrontare un secondo intervento per ripulire l'organismo dai residui del corpo estraneo. L'infezione è stata debellata e la piccola è stata finalmente dimessa. I suoi genitori sono felici di poterla riabbracciare e incuriositi dalla grande risonanza mediatica che ha avuto il suo caso. Mia infatti è diventata la protagonista di un documentario giapponese e un'inchiesta di Anderson Cooper. Da adesso in poi, però, la bambina rimarrà a debita distanza dalle piume di ogni forma e dimensione. Sebbene il tratto digestivo dei bambini sia in grado di processare tra l'80 e il 90% dei corpi estranei che vengono ingeriti erroneamente, la percentuale restante richiede degli interventi chirurgici, a volte anche molto invasivi. Monetine, magneti e giocattoli di piccole dimensioni sono le vittime preferite delle loro manine curiose. La morale della storia è che qualunque oggetto può causare problemi gravi per un bambino, quindi bisogna sempre fare attenzione alle sue mosse. E voi avete mai ingoiato qualcosa di strano quando eravate piccoli? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.